A fine settembre le elezioni per il nuovo Magnifico. Lo ha dichiarato Stefano Carpinelli, il rettore uscente nel corso dell'odierna seduta del Senato accademico. Nello specifico Carpinelli emanerà un decreto rettorale che darà l'avvio alle procedure per le consultazioni. La prima tornata delle elezioni, come indicato stamattina dallo stesso rettore, avverrà a fine settembre e nel caso di un ballottaggio si finirà ad ottobre. L'intervento mette forse la parola fine all'impas che da diversi mesi ha frenato la campagna elettorale dei candidati e che, soprattutto da parte dei sindacati, è stata denunciata come un'anomalia quasi unica in Italia. Il mandato di Carpinelli, in scadenza il 30 ottobre, non è rinnovabile. Per i prossimi sei anni sarà quindi necessario proclamare un nuovo rettore. I principali candidati alla successione sono Giampaolo De Muro, Gavino Mariotti, Roberto Furesi e Luca Gabriele De Idda, ma si parla con insistenza di un eventuale coinvolgimento di Salvatore Rubino, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia della AOU di Sassari.